No, è un esempio per tutti, perché ha riuscito a vincere praticamente tutto, due Champions League e i due titoli più importanti con la nazionale. È un uomo poi che mi sembra molto umile, molto disponibile. C'è anche da dire che ha la fortuna di allenare giocatori fortissimi, ma sa bene come gestirli al meglio. È un uomo che sapeva cosa fare con i suoi giocatori. Quando ci siamo incontrati a Varsavia con gli altri CT abbiamo parlato del modulo inventato da Vicente del Bosche, cioè il 4-6-0. Mi sembrava una cosa impossibile giocare senza un attaccante puro, ma questo non ha impedito la Spagna di segnare tanto e di subire pochi gol.